Giova con un pallone a cucuccello OHHHHH Il video Era un cucuccello? Ma come si fa a giocare cucuccello? No, pallone a cucuccello Ma non era? Sono quattro anni che facciamo così Non c'è mai stato nessuno C'è un problema E non c'è mai stato nessuno E' un sezio pallone E' un burro gemini E' un burro gemini E' un burro gemini Sì! Sì! Guarda Gioanna! Ho ragione che non c'è senza il vostro! Aspetta tu! Cando di un ucchio! Merda! Ma non lo faccio! Ma non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Siamo andati dal tabaccaio! Ma ti interessano? E gli abbiamo detto ci volete dare il pallone e il tabaccaio ha detto voi bucchiamo 6 pallone a settimana perché noi bucchiamo 6 pallone a settimana! Un grippale è scritto proprio! Giro, il uomino e basta! Un grippale? Ma come hai fatto a scrivere? Con l'uniposca! Con l'uniposca? E tu sai che l'uniposca è intelligibile? E tu lo sai che l'uniposca significa che non si levi più? Lo sai quello tu! E allora qua a me non si levi più! Non toccare il tuo pallone, ti? E non puoi più farlo! Non toccare il tuo pallone! Cagnollicchio! E quando l'hai fatto il tuo pallone? Stanotte! Se cavate la bomba, capi voi? E voi andate a kiss! Oggi non gioca con chi? Si è in un'altra! E si è in un'altra! Perché tu non mi fai qua? No, perché sei ricchione! No, perché sei ricchione! No, perché sei ricchione! Aniam dal tabacare! Don Vicenzo! I palloni erano le sgonfie a cucuziere! Da oggi i ragazzi avranno quanti palloni vogliono! Non c'è! Ohhhh!!!! Cosa c'è? Il brandonino! Vada! 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 Non sai perché c'è? No! Chi c'è lui? Chiamé se lo vogliava a Valentino. O dire! Quello fa il botto di questo! Marco Pirono ha busto di se di adesso! Io ci sono venuto Valentini da due corridoi della scuola, che diceva, c'è il compagno di soia, e diceva, mamma mia, ma tu l'hai visto a Marco Pironti? Uai, ho cesso fino a terra! Non me lo fotte, ti ho deciso, Marco Pironti ha da busto! Allora ci sono tutti io! Ci ho messo cinque minuti, appena sono entrato nella stanza, Valentini stava da quell'altra parte della stanza, a questa tavola che il pop-corno e la patatina... E coca-cola, e Sprite, e panca! Ci sono sempre feste, non ti parlo! Ci sono, allora non me lo fotte proprio! Appena mi ha visto, si è andata a sedere sul tifano vicino a me! Dopo cinque minuti esatto, io, Giovanni Ascione, mi sono baciato con Valentina Danese! Ti è buccato con Valentina Danese! Ti capito? Io sono andato alla festa, no? Perché io sapevo che centa gente mi sono baciato con Valentina! Ma il compagno di Giovanni Ascione si è buccato la maglione e ci ho fatto la stola! Ehi ehi ehi! Facciaricera a tutti quant'è! Facciate già! Oh! Guarda che io sono solo ammocato, eh! Non mi sono fidanzato! Ah no? No! Ah! Eh! Giovanni! No! Ma ti sei baciato con la lingua? Ehi! Come è? Come è? Come è? Come è? Come è la sensazione? Come è? A parole! Allora... C'hai presente questa cosa che vado a dire qua? L'ansia! Ehi, l'ansia, bravo! Allora... Tiro l'ansia... Angetto punta... Si libera! Si libera! Ehi! C'è, si toglie! A parole! Ma bella! Bellissima dire! Gio! Allora... Ma tu hai girato proprio con la lingua? A modo che quando hai fatto lo sapete... Ma già sapete tutto cosa? Tutto cosa? Tutto cosa? Sì, ho girato con la lingua! C'è, tu hai avuto proprio un rapporto completo! 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 Ma troppo bello! Bellissimo! Diego... Se non lo provi... Non lo puoi capire! Ma come un rato! Chi è? Un rato! Chi è? Chi è? Oh!